Non è quello che a te sembra in quel momento. Il silenzio punitivo è tutta un'altra storia. Se tu sapessi cosa fosse nella sua mente in quel momento, non saresti lì ad implorarlo a tornare da te. Inizio con una brutta realtà sul narcisismo. Si tratta sempre di loro, non si tratta di te. Sono loro che non hanno tempo da sprecare su di te, sulle tue, non so, emozioni, sui tuoi desideri. Non hanno tempo da sprecare per i tuoi bisogni, per i tuoi sogni. Si tratta sempre del loro mondo e tu sei là all'interno di questo mondo. Loro sono convinti che tutti hanno qualcosa da dare a loro. Tutti li devono qualcosa. Tutti li devono tempo, energie, soldi, ammirazione e soprattutto obbedienza. Sono dei maestri della manipolazione affettiva. Per quanto tu possa aver imparato a gestirli, per quanto tu possa aver imparato il loro funzionamento, la loro natura impedisce ogni minima, genuina connessione con gli altri. Ed ecco perché questo video voglio parlare con voi e voglio riflettere insieme a voi su cinque punti. Quattro di questi sono i loro pensieri nascosti, che non ve li sveglieranno mai. Più alla fine vi parlerò di un segreto che deve essere vostro da non svelare mai ai narcisisti. Entro subito nel tema e vi parlo del primo punto. Si tratta del silenzio punitivo. Il silenzio punitivo non è quello che sembra a voi in quel momento. Quando i narcisisti attuano il silenzio punitivo e quando loro ti dicono no, non stiamo andando bene, non stiamo andando nella direzione giusta, abbiamo bisogno di una pausa, oppure non ti parla, oppure non ti scrive più, non ti risponde ai messaggi, non è quello che a te sembra in quel momento. Il silenzio punitivo è tutta un'altra storia. Se tu sapessi cosa fosse nella sua mente in quel momento, non saresti lì ad implorarlo a tornare da te, ad implorarlo a tornare indietro, a scriverti, a messaggiarti, a chiamarti. Non saresti lì, se tu sapessi cosa fosse nella sua testa, non staresti lì a chiederti chissà cosa ho sbagliato, non saresti lì a rimuginare e a analizzare ogni tua mossa, ogni tua azione, a prenderti delle responsabilità o dandoti delle colpe. Ma il silenzio punitivo è uno strumento di manipolazione. Lui o lei si sentono forti quando attuano il silenzio punitivo, perché vedono nei tuoi occhi il bisogno come lui o lei fosse l'ossigeno per te. Non vogliono chiudere realmente il rapporto, non vogliono chiudere realmente quella relazione, vogliono solo avere più controllo, vogliono solo avere più potere e vogliono nutrirsi nel vederti così insicuro o insicura. Il secondo punto su cui bisogna riflettere insieme è che ti allenano a non chiedere mai nulla. Sono maestri nell'allenarti a non chiedere nulla. Sono maestri nell'allenarti in un rapporto di non reciprocità. Prima di tutto sono convinti di essere il centro dell'universo. Tutti girano intorno a me. Tutti mi devono qualcosa. Tutti devono girare intorno ai miei bisogni, intorno alla mia persona. Tutti mi devono. E su questa base loro costruiscono i propri comportamenti, costruiscono e agiscono in questo senso. In un rapporto di non reciprocità. Perciò, sin dall'inizio, tu non te ne accorgi nemmeno. Iniziano così, con la generosità condizionata. Ti fanno dei complimenti. Ti dicono che sei il top. Sei la migliore. Sei il migliore. Sei il miglior collaboratore. Sei la migliore. Sei l'uomo più bello mai visto, mai incontrato nella sua vita. Questo ti dice. Crea in te una specie di senso di debito. E tu non te ne accorgi all'inizio. Tu non lo sai perché ti dice questo. Si chiama generosità condizionata. Poi, molto più avanti, inizia a chiedergli qualcosa. Con fatica, ma per forza qualcosa li devi pure chiedere, no? E lì vedrai quanto te la fa pesare quella domanda. E troppo ti fa sentire o inadeguato, inadeguata, o che la tua richiesta fosse un po' fuori tempo, fuori questione, non ha una logica, non ha un senso la tua richiesta. E te la fa pesare. E te la fa pesare per far sì che la prossima volta ci pensi due volte prima di chiedergli qualcosa. E farai una fatica immensa a chiedergli un favore. Farai una fatica immensa. Girerai intorno. Non sarai mai pronta. Perché penserai che fossi di troppo, perché pensi che fossi pesante, perché pensi che la tua richiesta è troppo, la tua richiesta è fuori questione. Ecco cosa penserai. Perché i narcisisti ti allenano in questo. A non chiedere mai nulla. Perché le tue parole pesano troppo. Perché le tue richieste pesano troppo. Perché tu non devi chiedere nulla. Perché tu non devi guardare i tuoi bisogni, ma i bisogni dell'altro. Un altro punto su cui bisogna riflettere, il terzo forse, che hanno ben nascosto in mente, sono le campagne difamatorie. Sappiamo molto bene quanto i narcisisti sono abili nell'infangare il tuo nome dopo lo scarto, per esempio. Non si nutrono, ok, più diciamo in modo più efficace, ok, che di questa campagna difamatoria contro di te. Perché poi amano quando gli amici, quando i familiari soprattutto, vedono in loro la vittima e in te il carnefice. Non c'è nutrimento migliore che questo. E non vedono l'ora che tu scendi lì nel fango con loro a combattere, a controbattere. Vogliono questo. Vogliono che tu stai al loro gioco sporco. Non vogliono che tu vai avanti. Non vogliono che tu prosperi nella tua vita. Non vogliono che tu guardi i tuoi obiettivi e metti al centro la tua persona. Lo so che è difficile quando senti che parla alle tue spalle, che parla male di te. È difficile a non lasciarti risucchiare in questo loro gioco. Però è indispensabile. È indispensabile non fare altrettanto tu con loro. È indispensabile non sprecare le tue energie, il tuo tempo, i tuoi pensieri in quella direzione. Si mettono da soli in cattiva luce. Sì, soprattutto se tu non ti coinvolgi. Soprattutto se tu non ti dai da fare in questo senso. Soprattutto se tu metti al centro la tua persona. Perché non è facile per loro rendersi conto che alla fine sono soli. E che alla fine loro sono sempre lì e tu vai avanti e prosperi nella tua vita. Il quarto punto invece, vediamo se riesco a farmi capire. Loro non vogliono che tu sai che loro sanno di avere dei comportamenti disfunzionali nei tuoi confronti. Manipolatori nei tuoi confronti. Loro non vogliono che tu sai questa verità. Come sapete bene, in pubblico sembrano persone molto gentili, molto perbene, quasi fantastiche, quasi perfetti, per poi in privato trasformandosi nel tuo peggior incubo. Non vogliono che tu sai che loro sanno di far quello che fanno ben consapevolmente. Adorano sapere che hanno di nascosto il controllo su di te. Allora il segreto è proprio questo. Impara a non dover dirglielo che è un narcisista o una narcisista. Ma tutto il tuo sapere, ok, deve motivarti e deve stimolarti nel far certe scelte. Nel farti prendere una decisione saggia e vivere lontano da queste persone. Vivere una vita in base ai tuoi principi e in base ai tuoi valori. Ed ecco, è stato questo il mio video di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre riflessioni al riguardo. Voglio sapere le vostre opinioni su questo tema. Noi ci vediamo alla prossima. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo presto presto. Grazie.